Il mio desiderio è stare bene e sentirmi in forma. Ho fatto un sogno, un viaggio alla ricerca di un club, dove potermi sentire sicuro e accolto, coccolato come in un volo di business class. Mi sono risvegliato, circondato da professionisti che ogni giorno, come il primo giorno, ritengono importanti i miei obiettivi e mi aiutano a raggiungerli. Per me il viaggio è finito, quel club l'ho trovato.